La Fondazione Sossidiarietà organizza un convegno in cui si parlerà di un rapporto sulle politiche industriali e la sossidiarietà. Di cosa si tratta? Sì, è lo studio che è stato fatto per il 2015-2016 e viene presentato questo rapporto dal professor Vittadini. Si tratta di uno studio che va a analizzare il comportamento delle aziende rispetto al capitale umano, cioè rispetto alla personalità dell'imprenditore. Quanto incide questo in un'attività e soprattutto quanto incide questo nel risultato di un'azienda. Naturalmente è stato fatto sulla base di un campione molto vasto, circa 400 aziende, di realtà diverse perché ci sono differenze significative anche tra realtà e realtà rispetto a qual è l'apporto che dà l'imprenditore e anche in settori diversi, perché anche nei settori ci sono comportamenti eterogenei. I settori presi in considerazione sono quelli dove più prevalentemente c'è l'azienda di tipo carattere familiare, che sono la moda, il settore dell'arredamento, sono il settore delle macchine utensili e soprattutto l'agroalimentare. E qui si vede molto più spiccatamente che l'apporto che dà l'imprenditore, la sua personalità e soprattutto la sua capacità di coinvolgere quelli che lo circondano, dall'operaio, tra il collaboratore, tra il fornitore e la parte commerciale, cioè se riesce a creare questo coinvolgimento, riesce a produrre il maggior successo dell'azienda. Quindi questo rapporto serve per capire ed è un supporto utile per chi opera nel mondo dell'economia, nel mondo dell'impresa. Ecco allora, vogliamo ricordare dove e quando? Allora, il convegno si svolgerà venerdì domani alle ore 17.30 nel salone della Camera di Commercio, nella Sala Marmori, qui alla Spezia.